e se insomma ti senti anche di qualcosa su sulle reazioni sull'uore e sull'ablocazione Come si supera la partita dell'altro giorno è abbastanza semplice, dobbiamo guardare avanti e allenarci, non abbiamo avuto molto tempo neanche per pensarla con la partita perché l'abbiamo appena giocata, io l'ho rivista e rimango nell'avviso della squadra avrebbe meritato un risultato diverso. L'unico errore grosso che abbiamo commesso è stato sul gol che abbiamo preso, però per il resto abbiamo dominato la partita e ovvio che il risultato è negativo e alla fine nelle statistiche rimane quello che è anche la cosa più importante, però devo fare una valutazione della prestazione che secondo me è positiva. Le tre giornate non lo so, nel senso che Samuele ha fatto un errore grosso, intorno alle tre giornate mi sembrano eccessive, luci. Ha messo in atto quello che un giocatore esperto in determinati momenti della partita può fare quando un avversario, in questo caso Birindelli, commette un errore. Ha detto mister, non c'è stato tanto tempo per ripensarci l'ambiente, la sensazione è un po' questa, andando in città sentendo parlare, non l'ha smaltita questa sconfitta, a prescindere da come vanno poi le partite, questi debbi, poi i vinciti, i perdi, le altre valutazioni, soprattutto nel tifoso, magari prendono nello spazio. La squadra l'ha metabolizzata oppure qualche scoria nell'ambiente per la sconfitta e per l'ammario, insomma ce l'ha anche tu? No, la squadra era molto triste nello spogliatorio perché, ripeto, si aveva la sensazione di poter pareggiare se non fare addirittura di vincere la partita. L'ambiente immagino che non sia felice dalla sconfitta del derby, come è giusto che sia, perché il tifoso, giustamente, anche io quando lo sono, della prestazione, sì, mi interessa, ma alla fine quello che contro sono i punti, noi abbiamo perso e perciò immagino che non ci sia grande felicità in giro per la città. Detto questo, il campionato va avanti e noi lo dobbiamo giocare al massimo già a partire da domani sera. Minister, quando non si vince da tanto tempo, poi si sa, le partite si fanno sempre più difficili a prescindere dall'avversario. Quali sono le certezze dalle quali vuoi ripartire domani sera? Le certezze della tua squadra? Noi dobbiamo cercare di giocare bene a calcio. Tra la partita con il Crotone e quella con il Livorno c'è una differenza sostanziale. Con il Livorno abbiamo giocato bene e con il Crotone abbiamo giocato male. Con il Crotone abbiamo pareggiato e con il derby l'abbiamo perso. Allora uno potrebbe pensare che a volte conviene giocare male e riuscire a prendersi i punti. Ma io alla squadra non posso rimproverare. Con il Crotone la squadra ha avuto un impatto fisico e mentale fortissimo, con poca qualità di gioco. Molto merito anche da dare all'avversario. Con il Livorno abbiamo avuto un impatto di partita buonissimo perché abbiamo avuto due palle con la Clamoros per passare in vantaggio. E la squadra ha tenuto il campo per tutta la partita però non si è riuscita a vincere. C'è D'Avrilio, scusami, due avversari completamente diversi. Il Crotone è primo e ha impressionato per il gioco. Il Livorno ha avuto in crisi sull'oro del baratro e anche contro il Pisa. Questo forse ha venuto ancora di più la rabbia. Ha fatto veramente poco. Sì, sì, ma noi, così come penso che ci siano grandi meriti del Crotone e del fatto che noi non abbiamo giocato una buonissima parte italiana in casa, allo stesso tempo penso che ci siano grandi meriti nostri se il Livorno era sicuramente in difficoltà anche, soprattutto con Italia. Però io ho visto altre partite a Frosinone che hanno giocato bene, non abbiamo meritato di perdere. Cioè, il calcio è fatto così, poi chi vince, ti fa gol, vince. E perciò io credo che noi si debba ripartire dalla prestazione fatta con il Livorno, cercando di fare il nuovo, ovviamente. E ripeto, sono soddisfatto della partita perché la squadra in campo ha dato tutto quello che aveva sotto tutti i punti di vista. Poi, ripeto, la sconfitta brucia in primis a noi, ho tre di buone, è ovvio. Mister, dal punto di vista fisico ha lasciato delle scorie a questo derby. Come sta la squadra? Come sta De Vitis, che era l'unico assente sabato? E se, faccio l'ultima domanda, attenziamo, si può lasciare con lei, se va l'ultimo Scandelli pronto per giocare al primo minuto anche domani sera? E De Vitis, oggi si è allenato con la squadra, oggi dovrebbe fare lo stesso, perciò è sicuramente a disposizione per venire almeno, per essere almeno dei 23 giocatori. Su Moscardelli dobbiamo fare una situazione attenta, nel senso che lui viene da un fortuno molto lungo. Dobbiamo valutare se è il caso di farlo partito dall'inizio oppure se farlo subentrario, però sicuramente sarà per la partita, o in un caso o in un altro. Invece questi ragazzinati ti costringono a una sorta di turno? Bravo, passano solo 48 ore, perciò le valutazioni che farò per la partita di domani sono innanzitutto fisiche e noi abbiamo la possibilità di monitorare i giocatori sia durante la partita che durante i giorni seguenti alla gara per vedere qual è il loro recupero fisico e poi per la valutazione tattica. Perciò, Fili, se quelli che hanno giocato mi daranno risposte, o meglio. I macchinari che abbiamo a disposizione ci daranno possibilità di vedere che i giocatori l'hanno recuperato nella giusta maniera, ci sta pure che i giorni non gli stessi, altrimenti giocheranno anche. Che squadra è la Sanitana? Sanitana è una squadra che gioca a un ritmo non molto alto, è una squadra molto tecnica, di palleggio difensivo, che ha giocatori bravi e ovviamente, visto che chi è l'allenatore, ha un'organizzazione di gioco importante.